Ciao a tutti Lametti, sono Bebihiro e oggi io e la mia amica Laurì ci siamo cacciati nei guai. Beh, abbiamo fatto arrabbiare il professore e ci voleva mettere in punizione, quindi abbiamo deciso di scappare. Alla fine ci siamo buttati dalla scuola, non credo sia stata una buona idea. Ok ragazzi, siamo arrivati. Siamo al parco, potete fare un po' quello che volete, state attenti a non rompere nulla però. Yeeey! Va bene, signor maestro. Andiamo, Laurì, andiamo! Andiamo, Laurì! Dai, dai! Ok! Ehi, Laurì, Laurì, Laurì! Cosa, cosa? Hai dei biscotti? Biscottini? Ehm, sì! Dai! Tieni, ne ho cinque. Biscotti, aspetta che mi devi vedere, non mi devi vedere, non mi devi vedere! Cosa stai facendo? Non mi ha visto, cioè lui non vuole che mangiare i biscotti, non ci deve vedere! Ciao! Aspetta! Sì? Non li si deve passati i biscotti, giuro. No! No, 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 no! No, 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 no! 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 No, 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 no! Che cosa ho detto sui biscotti? Ne hai già mangiati quando eravamo a casa, Iro! No! No, ti prego! Mi portano i biscotti, Iro! Lauri, aiuto! Aiuto, aiuto! Aiuto, aiuto! Lauri, aiuto! Iro, fermo! Aiuto! Maestro! No! Iro, io ho un'idea! Maestro, mi sono fatta male! Dove? Fammi vedere. Mi sono fatta male! Mi sono fatta male! Ma, basta, biscotti! No! No! Ok, questi mi prendo io. No! Scotti! Prima di continuare con il video vi ricordo che in descrizione trovate il canale delle live e anche il link divinito per il mio gruppo Telegram dove possiamo parlare insieme, ci sono i stickers ufficiali del canale e mando le notifiche di ogni singolo video e anche del live perché ho iniziato ad andare in live dalle 20 fino alle 23 circa, quindi mi raccomando entrate in tanti. Ho fame! Impari a fare la cattiva. Adesso i biscotti te li confisco finché non lo vediamo a casa. Piegati questo! Tanto ne ho un altro! Iro, non toccare! Iro, fermati! Iro! Accidenti a te! Iro! No! No! Aiuto! 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 Lauri a fago! Lauri aiuto! Iro! Ma che cosa fai? Iro! 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 Mi sono bagnando tutti i capelli per colpa a tu! Scusa! Scusa! Cattivo! Cattivo! Scusa! Pacino! Adesso dovete anche cambiarvi i vestiti e quindi bisogna tornare a casa! No! Non tornerò mai a casa! Sì, fermati! Scappiamo, Lauri! Lauri! Aiuto! Aiuto! Mi segue! Aiuto! Aiuto! Ah! No! Aiuto! Iro! Scappa! Scappa! Oh! Che paura! Aiuto! Iro! 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 Cosa? C'è il professore! C'è il professore! Aiuto! Ragazzi! Iro! Lauri! Dove siete andati a finire? Ssss! 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 Non ci vede! Non ci vede! Oh! Oh! Ora via 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 via! Qui! 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 Oh! Tutto uguale le stanze! Lauri dove sei finita? Lauri di qua! Qua 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 qua! Vieni qua! Dov'è? Oh no! Un veicolo cieco! Dov'è? Dov'è? Ah! Aiuto! Io no! No no no! Di nuovo! Di nuovo! Venite qui tutti e due! No! No! Sotto! 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 Ah! Dove possiamo andare? Oh! Qua! Qua! Chi in questo sia! Sei in ostaggio dei bibiscotti! Ah! Ciao! C'è i miei biscotti alla faccetta! Eh! Eh! Andate! Sotto! 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 Oh no! Qua 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 qua! Non ci vede! Cacchio sono finiti! Vedo! Via! 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 Vi voglio dei maschi! Ah ah! Io? Lauri! Mannaggia voi se vi trovate! Guarda un po' tu! Oh no! Lauri scappa! Lauri! Inmi qui! Aiuto! 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 No! No! Non mi prendere! Non mi prendere! Non mi prendere! Ciccione! Ciccione! Aiuto! Ciccione! Vieni qui! Come ti permetti! Oh no! Qua c'è il tetto però! Ah! Cavolo! 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 Iro! Fermo! Ragazzi! Fermi! Siamo sul tetto! È pericoloso! Ragazzi! Iro! 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 No! 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 Iro! 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 Ti conviene! No! 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 Vieni qua! Vieni qua! Avvicinate ai biscotti! Vieni qua! Bravo! Però niente biscotti perché sei stato cattivo! Ma perché? Perché mi guardi così? Io avevo detto di non mangiare biscotti! Però quello che sono io! Non li mangio più adesso! Li ho finiti! Maestro! Finirete in punizione a tutti e tu! Maestro! 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 Dimmi! Ho capito due volte! Ok! Ciao! No! No! Scherzo! Sarà me! Non! Scherzo! Però c'è l'acqua! No! Non c'è l'acqua! Fermi! Non fare cavolate! Torna giù! E se ti butto io? Professor! E se ti spingo! Ti spingo! Non fare cavolate! Fermi! Ti spingo! No! No! Lauri! Lauri! Iro, vieni con me, torniamo giù e la andiamo a prendere, forza Iro Mannaggia voi Scappiamo, Laurina, scappiamo Non ci prenderà mai No, 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 no Laurina Dai, scappiamo da questa parte Ciao Ciao Ciao